cari amici buonasera a tutti ben trovati sul mio canale come sempre qualche volta ma non capita invito un ospite allora siamo qui per parlare ovviamente della grande vittoria diciamo nel complesso abbiamo assistito al gioco del calcio al gioco del calcio contro un verona la squadra che non che ha avuto le sue le sue occasioni ma parliamo con il nostro ospite ciao luca grazie per l'invito e un saluto a tutti i tuoi i tuoi affezionati ascoltatori della tua comuni follower 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 comunque sinceramente non mi aspettavo una vittoria mi aspettavo un pareggio ovviamente ci si aspetta questo ed altro però veramente ci siamo divertiti a vedere a vedere una Juve che attacca io sinceramente speravo e pensavo anche ad una vittoria il mio pronostico era stato vinciamo e segna Vlaovic e quindi abbiamo vinto e ha segnato Vlaovic quindi il pronostico l'avevo azzeccato e poi sì insomma ci siamo divertiti perché abbiamo visto una Juventus direi completamente diversa rispetto a Juventus di prima diciamo dell'arrivo di questi due giocatori sembrerebbe effettivamente adesso è chiaro insomma una rondine non fa primavera come si può dire quindi tagliamo le ali mettiamo le basse perché contro Verona è un'altra cosa l'Inter, Milan, Napoli vedremo esatto è un altro tipo di gestione di partita e bisogna prenderle con rispetto sicuramente però insomma abbiamo visto che questi due giocatori erano proprio al di là dei sì delle caratteristiche individuali che sono due giocatori nei propri ruoli molto forti ma erano proprio quei due profili che mancavano dal punto di vista tecnico tattico a questa squadra è un centro avanti forte con determinate caratteristiche poi abbiamo preso il più forte di tutti quelli che c'erano sul mercato fortunatamente e anche un centrocampista proprio con quelle qualità di centrocampista difensivo di sostanza capace anche di spingersi in avanti di organizzare il gioco come si è dimostrato ieri sera Zaccaria quindi credo che con questi due giocatori la squadra abbia fatto un upgrade importante poi come dicevi giustamente tu il Verona per caratterità ottima squadra ma sempre una squadra di mezza classifica vediamo quando saremo già la domenica perché domenica affrontiamo una diretta concorrente l'Atalanta quindi la vediamo subito insomma se effettivamente questi due giocatori ci hanno consentito e ci consentiranno di scalare quelle posizioni che ci riporteranno al vertice della classifica o comunque almeno quantomeno nelle prime quattro posizioni che è il vero obiettivo della Juventus di quest'anno Esatto Ti aspettavi una caduta dell'Inter? Questa caduta? Io avevo messo l'uno fisso io pensavo che vincesse l'Inter sinceramente ma infatti guarda io la partita l'ho vista perché ho un papà interista e quindi viene a casa mia a vedere le partite quindi grandi liti in famiglia e quindi le partite dell'Inter me le guardo quasi tutte se non tutte ma sinceramente per quello il primo tempo l'Inter ha dominato la partita il secondo tempo fino al quindicesimo o ventesimo del secondo tempo sembrava che tutto filasse via liscio e che l'Inter dovesse solo fare raddoppio più a chiuderla. Poi a mio avviso Simone Inzaghi ci ha messo molto del suo perché ha cambiato giocatori importanti e lui ha un po' la fissa che quando un giocatore prende un giallo poi lo deve sostituire perché te ha il terrore di rimanere in dieci e però insomma ha cambiato metà centro campo tre quarti di centro campo e lì la squadra in qualche maniera si è rilassata il Milan ha ripreso coraggio e poi è andato a vincere tutto sommato meritatamente la partita Infatti tutti gli interisti sono incazzati, meravigliati di questi cambi che ha fatto Insomma sì, probabilmente lì ha dimostrato un pochino di inesperienza forse a giocarsi quei derby dove basta veramente un piccolo particolare per far pendere l'inizio della gara da una parte o dall'altra devi stare veramente molto attento a cambiare due terzi del centro campo perché diventa veramente basta poco veramente per modificare e toccare gli equilibri e probabilmente un pochino la sua inesperienza a giocare nell'altissimo livello si è vista. Credo che Antonio Conte una partita così per come si era incanellata non l'avrebbe mai perso. Come ti aspettavi questo esordio di Zaccaria o Zaccaria? Sì, me lo aspettavo, allora mi aspettavo che esordisse semplicemente perché mancando anche Locatelli con McKennie che era arrivato dagli Stati Uniti a poche ore prima della partita con Quadrado fuori perché anche Quadrado era arrivato dalla gara con la propria nazionale il giorno prima a centro campo eravamo molto corti e quindi pur con pochi allenamenti mi aspettavo che esordisse e diciamo che ha esordito nel migliore dei modi possibili perché, attenzione, non solo per il gol non solo per il gol. Lui è stato determinante perché con i tre davanti lui praticamente giocava a mezz'ora a destra dietro Di Bala e sappiamo che Di Bala quando gioca esterno alto non è un esterno puro ma comunque nel 4-3-3 lui partiva esterno alto che poi si accentrava il suo più grosso limite a giocare in quella posizione di campo sono i ripiegamenti in fase difensiva perché lui è straordinario quando ha la palla tra i piedi molto meno bravo a tornare indietro soprattutto per tutta la partita. Il fatto di avere Zaccaria dietro che lo copriva ha veramente dimostrato quanto sarà importante questo giocatore. Anche con grandi falcate le fasce. Esatto, perché lui veramente ha un'apertura di compasso che copre una porzione di campo veramente notevole. Spesso e volentieri in quella fascia ci siamo trovati in inferiorità numerica però lui e Danilo, altro giocatore ieri che ha fatto una grandissima partita, è Danilo giocatore troppo sottovalutato a mio avviso di questa Juventus. Spesso si sono trovati in inferiorità numerica contro i tre giocatori del Verone, sono riusciti a uscirne vittoriosi quasi sempre da quegli scontri lì. Quindi grande Zaccaria, giocatore che credo che darà molto a questa Juventus soprattutto ancora di più quando tornerà Manuel Locatelli perché credo che abbia delle caratteristiche che si sposino molto bene con quelle del nostro giovane forte centrocantino. Esatto, però come abbiamo visto anche di balla abbiamo visto un po' sotto tono perché lui è bravo praticamente fuori classe però diciamo non ha tanta velocità e su determinate occasioni non incide, infatti abbiamo visto anche Morata si è visto meglio, si è mosso bene perché ha dato anche la palla a Zaccaria, cioè si è un po' ricoperto un po' di campo e comunque ha dato l'assist a Vlauvić, tranquillo, però non so quanto può dare una mano a Juventus di balla. Di balla è un po' questo qua, di balla bisogna prenderlo per quello che è, è un giocatore di grandissima tecnica giocatore che però è molto impostante, il gol di Vlauvić, sul gol di Vlauvić ha messo una palla io nel video che ho registrato oggi l'ho definito un cioccolatino, gli ha messo una palla meravigliosa una palla che solo lui, solo un giocatore con la sua tecnica, con la sua qualità riesce a mettere poi certo è un giocatore che ha dei passaggi a vuoto anche nel corso della stessa partita importanti Di balla è un pochino questo, non è un giocatore che bisogna prenderlo per la continuità lui bisogna prenderlo per quelle genialate, quei colpi, quelle pennellate di sinistra che ogni tanto regala mentre Morata ieri sera, Morata io l'ho definito il migliore in campo per me Morata ieri è stato il miglior giocatore in campo della Juventus di tutta la partita ed è un giocatore Morata che in questo ruolo qui, quindi come seconda punta, come esterno sinistro che poi dopo converge verso il centro, messo vicino a un centroavanti come Vlaovic perché attenzione, Morata è un anno e mezzo che lo stiamo utilizzando come centroavanti ma lui centroavanti non è, lui è una seconda punta, ancora meglio un esterno come ha giocato ieri beh insomma Morata se è quello di ieri sera, perché anche Morata ha un po' di problemi legati alla continuità e quindi lo voglio vedere poi dopo su due, tre, quattro partite ma se il Morata fosse quello di ieri sera io credo che la Juventus dovrà farci un pensierino importante per riscattarlo dall'Atletico Madrid, magari non ai 35 milioni che chiede l'Atletico Madrid chiedendo uno sconticino alla squadra spagnola dal momento che Morata si trova bene alla Juventus, adesso aveva avuto quell'abboccamento col Barcellona ma è caduto quello, credo che lui a Torino ci stia molto bene e se il Morata è quello di ieri sera io credo che in circolazione ci siano pochi attaccanti che possano ricoprire quel ruolo lì con quello che si è fatto vedere a livello sia di quantità che di qualità Morata nella partita di ieri sera Morata ha bisogno di continuità e di far vedere quello che riesce a dare anche alla squadra dopo dipende anche da come distribuire dopo dipende anche dai giocatori che ha intorno perché ricordiamo che Morata era totalmente da solo in attacco cioè non c'era un salire in avanti e attaccare cioè se non hai i centrocampisti che ti appoggiano palloni distribuire al centrocampo adesso che con Zaccaria era che adesso lo nominiamo il nuovo Matthew D o anche qualche caratteristica lo ha comune al francese certi dicono anche a stesso cuo però diciamo per me è un altro livello dopo Caetà è giovane però ho visto anche bene anche Rabiù guarda Rabiù è un altro di quei giocatori che ieri sera sembrava un giocatore diverso ieri sera rispetto al solito Rabiù è un giocatore che ha dei mezzi fisici, atletici e anche tecnici impressionanti Rabiù è un giocatore che dovrebbe aver avuto una carriera già molto superiore a quella che ha avuto probabilmente i suoi limiti sono proprio legati alla personalità alla capacità di concentrazione, alla voglia, alla volontà che mette in campo ieri sera si è visto un Rabiù da quel punto di vista lì completamente diverso e ha giocato una signora partita cioè se il Rabiù fosse sempre questo io mi immagino un centrocampo con Locatelli, Rabiù e Zaccaria un centrocampo di Colossi perché Zaccaria è un metro 92, Rabiù è un metro 88 Locatelli è un metro 86 tutti giocatori di quantità e di qualità è un centrocampo che non solo in Italia ma anche in Europa può essere un centrocampo veramente molto importante anche per lui però voglio vedere la continuità perché altre volte aveva fatto qualche buona partita e poi magari per due o tre partite era sparito completamente ma se il Rabiù fosse quello di ieri sera vabbè allora non abbiamo trovato un acquisto ne abbiamo trovati due perché quello veramente il Rabiù di ieri sera è un giocatore completamente diverso da quello che abbiamo visto direi di sì non lo so tanti dicono siamo ancora in corsa per lo scudetto oppure diciamo è una ripartenza di inizio per la Juve di avere un nuovo camminato davanti è un nuovo percorso che sta facendo con questo nuovo assetto tattico e acquisti allora guarda lo scudetto io credo che effettivamente sia volare un po' troppo alto nel senso che l'Inter ha 53 punti con la gara da recuperare col Bologna l'Inter ha una tradizione molto favorevole contro Bologna quindi io darei l'Inter a 56 punti noi ne abbiamo 45 11 punti di svantaggio da recuperare in 14 partite sì ci vuole veramente un crollo verticale dell'Inter ma non credo che l'Inter l'Inter ha sbagliato ha sbagliato l'ultima mezz'ora di domenica col derby ma l'Inter è squadra forte io non credo assolutamente che possa crollare in maniera così verticale credo molto di più invece come dicevi tu che questo sia veramente l'inizio di una nuova stagione per noi di una nuova stagione che ci debba portare assolutamente nei primi quattro posti perché penso che davanti all'Atalanta sicuramente ci si possa arrivare e forse si possa anche ragionare sul Milan e sul Napoli che possa darci la Coppa Italia perché è un trofeo io lo vorrei portare a casa anche quest'anno perché sono 11 anni che vinciamo almeno un trofeo e almeno uno me lo vorrei portare a casa e poi anche in Champions se la Juventus è quella che ci ha fatto intravedere ieri sera con questi due giocatori che hanno innalzato molto il livello fisico e tecnico della squadra io credo che anche la partita col Villareal non sia impossibile e quindi vai ai quarti di finale porti a casa altri 10 o 15 o 20 milioni di euro quello che vale arrivare ai quarti di finale ai quarti di finale se dovessi trovare un accoppiamento magari un sorteggio non troppo impegnativo chissà magari fai un altro passettino avanti e poi adesso non dico mica di vincere la Champions League però insomma di terminare la stagione nel miglior modo possibile classificandosi nei primi quattro vincendo la Coppa Italia e andando avanti il più che possibile il più che si può in Champions e poi dalle notizie che ho io la Juventus cercherà di fare un altro grande colpo a centrocampo nel prossimo mercato e quindi la squadra vista ieri sera con un altro grande colpo a centrocampo beh insomma io credo che l'anno prossimo possiamo partire in pole position per la prossima serie A dipenderà da chi sappiamo noi Allegri Allegri qua bisogna Allegri se gli dai i giocatori che gli servono ok allora non ti farà mai il calcio spettacolo con Allegri è inutile che ce l'ha Allegri non è ma lui vi l'ha sempre detto non ne fa mistero lui vi ha sempre detto se volete divertirvi andate al circo il calcio per me è un'altra roba io devo vincere devo portare risultati quindi con Allegri scordiamoci il calcio spettacolo di Guardiola però Allegri se gli dai i giocatori che gli servono quelli per fare il suo calcio ci ha già dimostrato in cinque anni i giuventini che ti fa vincere e insomma io ricordo comunque anche delle belle Juventus perché la Juventus che arrivò a Cardiff era una Juventus che giocava un calcio molto bello la Juventus che arrivò in Champions alla fine di Champions a Berlino era una Juventus che giocava un bel calcio Allegri ha bisogno di avere i giocatori per fare il suo calcio ha bisogno di stimoli ha bisogno di stimoli i giocatori che gli danno esattamente che gli danno la spinta in più per avere una squadra solida l'anno prossimo tornerà anche Federico Chiesa quindi immaginati te anche quell'attacco che abbiamo visto ieri sera con Federico Chiesa in più è tanta roba in Italia credo che ci siano poche squadre che possano vantare adesso vediamo cosa succederà con Di Bala ma io se anche Di Bala non dovesse rinnovare non mi strappo i capelli sinceramente già che non ne ho tanti ma poi i capelli non me li strappo se no se non dovesse rinnovare però Chiesa Lauvic Morata se andrà via Di Bala se no rinnoverà Di Bala sicuramente arriverà un altro attaccante si parla di Zaniolo della Roma ma ci possono essere anche altri giocatori di alto livello ripeto questo attacco con più Federico Chiesa il centrocampo che abbiamo adesso con un altro colpo che sicuramente la Juventus metterà segno nel corso dell'estate qualche buon nostro giocatore che io spero che andremo a riportare a casa perché Nicolò Fagioli io sto vedendo quello che sta facendo nella Cremonese è il miglior centrocampista della Serie B in assoluto Nicolò Rovella un altro giocatore che è uno dei migliori centrocampisti italiani di questa Serie A insomma io credo che tutte le prospettive per partire l'anno prossimo con una stagione a mille ci sia speriamo perché speriamo perché tutto è possibile ma tutto dipenderà da come gestirà la squadra a lei che cosa sceglierà di tenere o di confermarlo perché qua adesso prima per dire da giovani però infatti però lo otterresti Ken scusa? lo otterresti lo otterresti Ken ma allora Ken un altro anno ce lo dobbiamo tenere di sicuro perché il prestito era biennale e due anni ce lo dobbiamo tenere sicuro alla fine dell'anno prossimo Ken ha una sorta di obbligo di riscatto ma solo con determinati requisiti quindi probabilmente potremo scegliere alla cifra di cui si parla no perché non mi sembra sia un giocatore che possa almeno per quello che ha fatto valere fino adesso non mi sembra sia un giocatore che possa valere credo che il riscatto di Ken sia sui 35 milioni di euro è un classe 2000 anche lui quindi è un giocatore che delle discrete potenzialità le ha è un giocatore che nella Juventus a mio avviso non potrà mai essere centrale nel progetto è però un giovane che ecco è però un giovane che se dovesse arrivare a Torino per una cifra non ovviamente di quelle cifre lì per entrare nelle rotazioni perché comunque una grande squadra ha bisogno di almeno 5 attaccanti forti per fare il quinto attaccante io credo che potrebbe anche essere un giocatore potabile per questa squadra è chiaro che un investimento di 35 milioni sicuramente non lo vado a fare per questo Moise Ken almeno per quello che ci ha fatto vedere fino adesso infatti infatti non mai stato proprio decisivo nel dire di essere un buon giocatore cioè non ha cioè un pochettino mi 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 vede un pochettino barottelli ciao sì però guarda a Moise Ken a Moise Ken vorrei dare anche lui una prova d'appello perché mi piacerebbe vederlo anche lui una partita intera 90 minuti di fianco a un centroavanti come Vlaovic perché lui ha delle caratteristiche che sono simili un pochino a quelle di Morata cioè non è una prima punta noi per adesso quando l'abbiamo fatto giocare l'abbiamo fatto giocare prima punta perché non ce l'avevamo una prima punta Moise Ken l'anno scorso non so se tu ti ricordi io lo vedi giocare in diverse partite perché lui l'anno scorso era a Parigi e Paris Saint Germain e Pochettino in diverse partite di Champions lo faceva giocare come esterno di sinistra qualche volta anche come esterno di destra e un attacco a tre e non era per niente male non era per niente male aveva fatto bene aveva fatto ottima prestazione aveva fatto anche qualche gol anche nell'Italia di Roberto Mancini quando è stato convocato e fatto giocare come esterno di sinistra in un attacco a tre non ha fatto male quindi ripeto vorrei rivederlo in una condizione diversa rispetto a quella che l'abbiamo visto fino ad ora perché anche lui in una posizione diversa quindi un po' all'amorata di come ha giocato ieri di fianco a un centroavanti di stazza di classe di qualità di fisico di potenza come Duzan Lauvic credo che potrebbe farci vedere qualcosa di meglio rispetto a quello che ha fatto vedere fino a ora dipende dipende anche dal giocatore come come sta andando in campo diciamo come giocatore non sarebbe male ma non so non mi dice poco come ma sì come ti dicevo può essere no ma può essere un buon un giocatore di complemento ti ripeto una grande squadra cinque attaccanti come quinto come quinto se dovesse arrivare per una cifra non esagerata come quinto come quest'anno vedi il quinto quest'anno è Caio Giorgi non ha mai giocato insomma il quinto attaccante può essere un attaccante di complemento lui è un italiano è uno che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e quindi non porta via un posto in lista champions quindi ha tutta una serie di caratteristiche per cui come quinto attaccante ripeto se dovesse arrivare per una cifra molto 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 inferiore a quella che è stata patuita l'estate scorsa credo con l'Everton perché il titolare del suo il club titolare del suo cartellino se non sbaglio è l'Everton allora si potrebbe fare qualche ragionamento altrimenti come ti dicevo anch'io non credo che il giocatore possa valere un investimento importante infatti bravo e così il resto non lo so è tutto da tutto da valutare non è a sperare che la Juve continui però è anche Allegri adesso si si mette in testa di attaccare di attaccare un po' di più visto che abbiamo 75 milioni l'attacco e la Bionia abbiamo a pensare di poter segnare un pochettino di più ma io di questo guarda sono sono abbastanza certo che vedremo una squadra col baricentro più alto perché il baricentro di una squadra al di là delle idee dell'allenatore te lo dà anche le caratteristiche del centroavanti e dei centrocampisti perché un giocatore come Vlaovic automaticamente ti alza il baricentro della squadra perché le squadre avversarie devono stare più basse quei difensori centrali perché quello è uno che se gli lasci qualche metro di spazio ti ammazza e un giocatore come Zaccaria anche esso ti consente di tenere il baricentro più alto perché è un giocatore che non è bravo a leggere le situazioni e puoi spingerti un pochino più su perché sai che comunque anche se perdi palla c'hai lui poi dopo che riesce a contenere molto bene gli attacchi avversari quindi anch'io credo come dici tu che sarà importante vedere se la Juventus proseguirà con un atteggiamento più propositivo un atteggiamento più offensivo io credo che questi due giocatori ci possano aiutare molto da questo punto di vista però vediamo lo vediamo velocemente perché giovedì abbiamo il Sassuolo domenica abbiamo l'Atalanta quindi poi abbiamo il Torino poi abbiamo il Villareal abbiamo un mese di febbraio che è intensissimo giochiamo praticamente ogni tre giorni e quindi a breve avremo le risposte a tutte le nostre a tutte le domande che ci stiamo facendo questa sera il problema è che siamo sempre lì con la difesa che non riusciamo mai a buttare via la palla sono sempre sempre lì diciamo sempre in sofferenza in difesa che non riusciamo mai a distribuirsi bene per fare il contropiede oppure non lo so non siamo mai capaci un pochettino sarebbe anche all'inizio perché devono ancora aumentarsi i giocatori va bene però non abbiamo ancora la fase di di contropiede sviluppo del del gioco in centro campo poi di nuovo visto così adesso a parte a parte il Verona ma adesso vediamo le altre squadre però diciamo che fino adesso abbiamo visto almeno giocare a calcio ci basta almeno divertimento diciamo avere un pochettino di di tifo però sì e beh sicuramente ripeto insomma la Juventus che abbiamo visto ieri sera non è perfetta è migliorabile ma d'altra parte poi sia Vlaovic che Zaccaria avevano fatto due o tre tre o quattro allenamenti quella squadra quindi però diciamo che le caratteristiche di questi giocatori ti fanno pensare che questa squadra potrà potrà avere un trend positivo importante avevamo fuori anche Locatelli che è un altro giocatore che al centro campo ti dà tanta quantità e tanta qualità e quindi insomma la nostra fase difensiva adesso è ottima e tieni conto che da novembre a venire oggi la Juventus su tredici partite ha avuto nove clean sheet e è la prima squadra in Europa su tutti i cinque principali campionati europei da questo punto di vista quindi la fase difensiva l'abbiamo già messa a posto abbastanza abbastanza bene ripeto nove clean sheet su tredici partite è tanta roba dobbiamo migliorare sicuramente in quello che è la fase propositiva perché anche ieri fino a che non abbiamo avuto fatto il raddoppio qualche momento di apprezzione l'abbiamo avuto sì ma anche è anche un pochettino normale però diciamo che dobbiamo crescere da questo punto di vista sì infatti ma cresceremo perché anche Znaovic ieri secondo me ha fatto vedere il 30% del suo potenziale è un giocatore che ha un potenziale spaventoso quindi credo che miglioreremo ulteriormente altro che è un giocatore un giocatore così ti fa giocare bene la squadra perché protegge la palla anche i giocatori abbiamo visto che hanno più voglia sono più incoraggiati hanno più grinta esatto ho visto esatto perché ieri sera è andato proprio quell'impressione lì di avere proprio più voglia più grinta più carica più dettagli perché perché vedi che hai la voglia di attaccare hai voglia di proporsi perché se non hai un attaccante che tipo sul passaggio di Di Bala non vedi un attaccante che si muove che si propone in attacco che ti dà lo sbilanciamento anche i difensori che ti tagliano fuori vedi anche anche l'incoraggiamento a voler segnare perché se se non hai se non hai un principio di di intesa con un attaccante che ti dà la voglia di segnare ma guarda il gol che ha fatto Vlaovic eri sera se ci fossero stati o Morato o Cannon non l'avrebbero segnato quel gol quello è un gol davvero centroavanti non l'avrebbero segnato infatti opportunista eh sì e quindi sai probabilmente l'arrivo di questi due giocatori ha dato ha dato anche fiato ha dato vigore anche dal punto di vista morale è un ambiente che secondo da quello che sembrava negli ultimi mesi si era un pochino depresso e quindi io spero e mi auguro che anche come dicevi tu da un punto di vista motivazionale da un punto di vista dell'energia della voglia di almeno insomma ieri sera ci sono stati dei segnali molto incoraggianti io ho visto anche la partita di Artur che per carità non ha fatto niente di straordinario perché però a me mi ha stupito bravo mi ha stupito tantissimo non tanto la sua partita in possesso di palla ma in fase difensiva perché lui è uno che in un anno e mezzo che ha la Juventus ha fatto vedere che in fase difensiva non valeva niente ieri si è impegnato tantissimo ha cercato di chiudere tutte le linee di passaggio rincorreva l'avversario ho visto una chiusura fino sulla nostra linea di fondo campo cose che non ho mai visto fare in un anno e mezzo da questa parte ad Hartford darsi così tanto da fare impegnarsi così tanto in fase difensiva di aiuto alla squadra e anche quello secondo me è un segnale positivo importante un segnale che qualcosa forse all'interno di questo ambiente di questa squadra è scattato speriamo ripeto che non sia stata solo una partita così un'illusione un'illusione ma che già da giovedì sera questo suolo e soprattutto la domenica perché noi a Bergamo ci giochiamo una bella parte di stagione perché se dovessimo andare a vincere a Bergamo l'Atalanta l'Atalanta mettiamo la freccia e la sorpassiamo definitivamente quindi sarà una partita non dico decisiva però molto 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 importante per la nostra classifica finale è tutto da avere bisogna 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 convincersi di poter avere avere dei presupposti giusti per creare una squadra vincente speriamo che che non è che adesso ci diamo la testa perché l'abbiamo detto con il Verona però l'importanza di adesso non è il risultato sul tabellone o in qualche segno anche in qualche segno perché la la vedi proprio l'abbiamo la vedi il il punteggio sul tabellone anche perché hai sei contento perché segni però adesso noi ci stiamo concentrando per vedere gli sviluppi del gioco della vera Juventus che sta venendo fuori adesso complesso dobbiamo vedere i frutti sperati di questi acquisti o di questo futuro che verrà che verrà impresso alla legge con questi innesti e dopo il risultato dopo viene se segni perché hai un attaccante che è Laurice o o qualsiasi altro ma l'importante è che hai gioco questo è importante anche per gli sviluppi di ogni partita per carità potrebbe essere anche un caso psicologico per carità però è adesso dare continuità la continuità è la parola d'ordine soprattutto in questo momento dove noi siamo indietro dobbiamo recuperare posizioni perché purtroppo abbiamo avuto quella partenza drammatica inizio di stagione pareggia udine la sconfitta in casa con l'Empoli la sconfitta Napoli noi scontiamo tantissimo quella partenza drammatica della squadra perché se noi prendiamo la Juventus da ottobre da novembre in avanti noi siamo primi o secondi in classifica siamo lì saremo lì con l'Inter con il Milan e con il Napoli a pari punti a giocarci campionato purtroppo scontiamo tutti gli errori che abbiamo fatto nel giornale d'andata e a questo punto la parola d'ordine deve essere solo continuità non guardare più di tanto la classifica cercare di fare un filotto di vittorie più importanti possibili dare continuità risultate e poi mancano ancora 14 partite quindi i punti in paglio sono ancora tanti noi quando noi abbiamo ancora l'Atalanta e l'Inter di squadre di prima fascia poi le abbiamo incontrate tutte poi abbiamo solo squadre di media bassa classifica quindi siamo forse la squadra tra le prime che ha il miglior calendario possibile e anche questo ovviamente ci può e ci deve aiutare a partire però dal fatto di riuscire a ottenere un risultato positivo domenica sera contro l'Atalanta cosa non facile perché abbiamo sempre faticato negli ultimi anni contro la squadra di Gasperini esatto così niente niente a posto penso che abbiamo detto quasi tutto cioè mai abbiamo detto quello che dovevamo dire speriamo fino alla fine che almeno ci danno delle soddisfazioni e anche delle certezze e anche dei dei risultati ottimali eh sì certo da me ragazzi niente questa chiacchierata di di mezz'ora tanto per allungare lo so che siete annoiati lo so che qual importa però se se vi iscrivete al canale sarebbe ancora ancora meglio tutti e due non solo a me anche a filo bianco e nero grazie 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 di ringrazi e basta basta tanto hai già hai già una squadra apposita hai un attaccante centrocampista e vai sfoga la tua i tuoi moduli i tuoi esperimenti va bene ragazzi dai ci ci mettiamo la prossima volta e grazie per grazie per l'intervento grazie a te Luca grazie grazie per la chiacchierata un saluto a te e un saluto ai tuoi follower va bene va bene ciao ragazzi buona serata ciao ciao buona serata a tutti ciao ciao ciao